I complimenti per il progetto, io poi l'ho vissuto anche nella preparazione grazie alla maestra Camilla, c'è stato tanto lavoro dietro con un ottimo risultato. Anche a Pittare. Abbiamo collaborato per la migliore delle soluzioni di questo progetto, oggi ho visto il frutto nella sua totalità, ottimo progetto, ottimo l'impegno dei bambini, ottimo l'impegno delle maestre che l'hanno saputo applicare in modo corretto e travolgente per i bambini, insomma perché si sono molto affiatati fra di loro, quindi complimenti un po' a tutti, bimbi compresi. E all'ideatore. Grazie. L'ho premesso prima, ottima riuscita del progetto. Grazie a voi, vuole dire qualcosa? Sì, brevissimamente, ho visto mio figlio passare dai disegni dove a malapena riusciva a stare negli spazi, oggi mi manda il messaggio sms.